1898-2023, 125 anni di vispeso, un compleanno che pochissime società in Italia possono vantare, un compleanno che la vispesteggia il 6 di dicembre all'Hotel Baia Flaminia a partire dalle 19.30, con che tipo di evento? Coinvolgerà tutte le altre squadre minori di calcio, coinvolgerà tutto il settore sportivo di altri sport, coinvolgerà tutti i politici, coinvolgerà tutte le autorità sportive e locali, è un evento, è una festa della città. È la festa di una storia, una storia lunga che verrà testimoniata da tante iniziative, alcune le possiamo svelare, altre magari no, ci saranno le vecchie glorie, ci saranno i cimeli, ci sarà tanto anche da far commuovere, diceva. Una piccola galleria di cimeli, di maglie originali indossate dai nostri giocatori, ma il colpo bello, il colpo di grazia, diciamo così, lo darà alla fine Vergari con i suoi filmati. In questo filmato ricorderemo e rivivremo i momenti più belli, i più magici, ricorderemo persone che non ci sono più, ricorderemo situazioni di felicità, di gioia, di sofferenza anche, ma 125 anni sono tanti, quindi è inevitabile che ci siano tutti questi momenti. E poi ci sarà la squadra di quest'anno al completo ovviamente, poi ci saremo tutti noi, tifosi, che quest'anno in particolare si sono ritrovati in tutti i gruppi organizzati, si sono ritrovati insieme, sono uniti e sono una grande gioia per tutti noi, vederli cantare, ballare, tutte le partite, con quell'entusiasmo che ci danno una carica incredibile per tutti i 97 minuti di gioco. Sono proprio i tifosi ad aver pensato questo tipo di appuntamento, la Vispesoro ha raccolto appunto l'invito dei suoi supporter, spieghiamo comunque come si fa a partecipare, è un evento aperto al pubblico ma comunque con posti limitati. Partecipare non sarà facile perché con tutti questi inviti che abbiamo fatto, più di 600 posti non ci sarà la possibilità, però ancora qualche cosa è rimasto, anche perché ci sono state delle defezioni per influenza, impossibilità, qualcuno gioca ancora, c'è anche Gasperini per esempio tra i nostri invitati che speriamo ci mandi un saluto all'allenatore dell'Atalanta, ma del resto come puoi sperare che possa avvenire. Per tutti questi motivi si sono creati una serie di posti ancora disponibili e gli inviti vanno ritirati a Bar Zungo che è vicino allo stadio.